E' la natura la protagonista del calendario storico dei Carabinieri per il 2023 interamente dedicato alla tutela ambientale da sempre tra le priorità assolute dell'arma. Giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie di cui oltre 16.000 in altre nove lingue, il calendario è indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno un oggetto apprezzato. Ogni tavola artistica parte da un elemento appartenente all'universo visivo dei Carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica. L'obiettivo è quello di raccontare i temi legati al quotidiano lavoro dell'arma attraverso i manifesti simbolici narrati dalla penna del celebre conduttore radio televisivo Mario Tozzi, geologo, primo ricercatore del CNR, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Nascono così le 12 tappe di un percorso che svela l'importante azione dei militari a difesa dell'ambiente e del territorio del paese, a protezione del patrimonio faunistico e vegetale nostrano, a salvaguardia di una civiltà agroalimentare che il mondo ci invidia. Un argomento che ci sta a cuore da tutta l'amministrazione e che ci permette di dire con l'acquisizione del corpo forestale, quindi è diventato come ruolo forestale, ora la polizia ambientale più grande del mondo. Quindi un grande interesse, come è certificato anche dalla modifica della Costituzione italiana, quindi di grande interesse per tutto il nostro Stato, per tutta la nostra popolazione, quindi l'impegno dell'arma è quotidiano in quest'ambito. Negli anni l'arma si è sempre strutturata sin dalla sua fondazione e quella che è la tutela dell'ambiente, quindi anche sin dal 1816, quindi più di 200 anni fa, c'era la possibilità, due anni dopo la sua fondazione, già uno dei compiti era quello di tutelare, di tutelare quelle che erano le foreste, i boschi, da chi ne voleva approfittare. In quel caso, e a quell'epoca era logicamente chi tagliava i boschi o chi usava i boschi per potersi nascondere. Poi nel tempo logicamente sono strutturati dei reparti specifici, siamo partiti con il nucleo operativo ecologico, con il comando carabiniero e tutela agroalimentare, quindi per la tutela delle denominazioni di origine controllata, del DOC, DCG, DOP, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi anni abbiamo avuto l'acquisizione del corpo forestale dello Stato, che è diventato un ruolo carabiniero e ruolo forestale, quindi che ci ha permesso appunto di avere una competenza a 360 gradi nell'ambito della tutela ambientale, tutela degli animali e tutela della biodiversità. Per la prima volta nella storia del calendario dell'arma dei carabinieri, l'edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato che comprende un sito web, dando così la possibilità di vedere i contenuti in maniera interattiva. Chi potrà entrare in contatto con questo calendario? Beh, penso che tutti quelli che possono essere amanti dell'ambiente, degli animali, ma in qualche modo per lanciare quello che vuole essere l'intenzione, quello di lanciare il messaggio che è sempre più importante la tutela dell'ambiente, come è stato scritto nella Costituzione, ma per le future generazioni, non soltanto per noi, ma soprattutto per il futuro, che ce ne immagino bisogno, visto la situazione attuale.